La città metropolitana approverà a breve il piano strategico metropolitano che prevede molti investimenti in tutto il territorio metropolitano. Qual è la sua opinione su questo progetto? È importante il coinvolgimento dei comuni della città metropolitana perché devo riconoscere all'attuale gestione della città il coinvolgimento delle strutture che poi costituiscono il territorio della città metropolitana. Quindi essere a conoscenza, portati a conoscenza e condividere i contenuti del piano secondo me è una fondamentale importanza per i nostri territori. L'Isola di Capri ha già in mente qualcosa da realizzare utilizzando questo strumento? Ma abbiamo varie ipotesi di interventi. Andremo a vedere nell'ambito della nostra programmazione quelle che sono le proposte e i programmi che non sono stati ancora attuati con le nostre forze per poter poi puntare appunto sulla disponibilità della città metropolitana. Grazie a tutti!